C'è uno dei pochi qui presenti, ancora vivi, che sono stati nella Facoltà di Statistica quando c'era ancora Gini. Io credo di avere il record del servizio nella Facoltà di Statistica come assistente dal 1 gennaio del 1956 fino a professore ormai vecchio nel 31 ottobre del 2007. Allora, il ricordo di Gini è molto vivo perché era una personale che lasciava interessi vivi. Voglio cominciare da fare un'osservazione su quello che diceva Golini perché c'era qualcuno che temeva riflessi negativi sulla sua carriera per delle critiche che aveva fatto lui a Gini ma devo dire che secondo me questo qualcuno non conosceva Gini, non era il tipo. Gini mi sembrava sempre potuto vedere una correttezza, una onestà scientifica. Io sono stato diverse volte in commissione di esami con lui, di esami di statistica. Mi ricordo la sua serenità, il suo rigore, ma anche la giustizia, il vedere esattamente come stavano le cose. Poi ricordo una volta che mi ha chiesto di fare dei calcoli, analisi delle medie, delle varianze su dei dati e mi avvisò molto gentilmente e correttamente che lui aveva intenzione di criticare queste elaborazioni. che io naturalmente gli dissi, cosa di cui ero pienamente convinto, che ero assolutamente onorato della sua richiesta e che poteva fare quello che voleva dei dati. Ecco, per tanti, però, a parte i ricordi personali, già c'è, arrivavo all'università, alla facoltà, lì alla piazza di Sedra, la piazza della Repubblica, allora in bicicletta, noi lo vedevamo sempre, no? Ma c'è soprattutto una cosa che vorrei richiamare, no? E qui anche si rivede la sua correttezza, onestà scientifica, oltre alla sua genialità, perché si è parlato tanto della statura eccezionale della sua statura scientifica in statistica, demografia e sociologia, ma si è avuto anche questo aspetto, quello di chiamare alla facoltà Giuseppe Pompili. Giuseppe Pompili aveva vinto il concorso a cattedra di geometria dell'università, ma nel frattempo aveva spostato la sua attenzione verso la statistica come si era sviluppata all'estero, mentre in Italia viaggeva l'autarchia fascista o c'era la guerra. Gini, per cui questo sviluppo della statistica era una cosa piuttosto estranea e anzi criticava diverse sfaccettature, però si rendeva conto della sua enorme importanza, per cui chiamò, lo chiamò la facoltà, la facoltà di statistica, chiamò Pompili, alla cattedra di geometria, che era una cattedra assolutamente di scarsissima importanza nella facoltà, ma per dargli l'incarico di calcolo delle probabilità e sviluppare tutte queste cose nuove. Pompili, in vent'anni, perché morì vent'anni dopo, a 54 anni, nel 1968, fece proprio questa opera notevole di portare in Italia la statistica matematica, l'analisi della statistica degli esperimenti che fin allora era sconosciuta. Dunque, voglio chiudere con un ricordo personale di Panedottico, che era legato anche alla fama di cui lui era circondato, perché una volta c'è stata una cena in cui uno dei presidenti si accorse che eravamo in 13 e si rifiutò di sedersi a tavola in un numero così pericoloso. Io, che ero il più giovane, naturalmente proposi subito che io me ne andavo, non potevo tranquillamente andare via, però Pompili, di cui ero assistente, si bloccò proprio, si rifiutò. La cosa si rivolse quando Benedetto Barberi, che era anche lui lì, riuscì a convocare il figlio, mi pare che fosse medico, un medico allora, in modo che diventavano 14 e la cosa si risolve. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.